Ben ritrovati con la trasmissione eccellenze in sanità. L'argomento di oggi è il glaucoma, una malattia neurodegenerativa dell'occhio che se non curata in tempo può portare a danni irreversibili. A parlarci di glaucoma, di quante persone ne soffrono, di prevenzione, di novità nelle cure e soprattutto quanto incide nella vita sociale, il professor Giorgio Ghirelli, responsabile del centro glaucoma dell'ospedale San Pietro Fatebene Fratelli di Roma. Professore, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora le chiederei subito cos'è il glaucoma, ci sono vari tipi di glaucoma, quante persone ne soffrono e quali rischi a non affrontare subito il problema? Allora il glaucoma è una malattia degenerativa del nervo ottico di tipo multifattoriale e progressiva dove il maggior fattore di rischio è l'aumento della pressione oculare. Il nervo ottico è quella struttura che serve a trasmettere le immagini dall'occhio al cervello perché l'occhio è come una telecamera che riprende le immagini e poi tramite il nervo ottico come se fosse un filo elettrico trasmette le immagini attraverso le cellule nervose alla corteccia occipitale e noi guardiamo la corteccia occipitale. In Italia all'incirca il 2% della popolazione al di sopra dei 40 anni soffre di questa malattia, quindi è una cifra che si avvicina a un milione di cittadini che sono affetti da questa malattia. Nel Lazio all'incirca il 10%, quindi siamo sui 120 mila pazienti che sono affetti dal glaucoma. Professore quali sono i fattori di rischio per questa patologia e quanti tipi di glaucoma esistono? L'importante è la valutazione dei fattori di rischio perché dopo i 40 anni, 45 è bene finisurare la pressione oculare, fare la visita oculistica, però ci sono dei fattori di rischio fondamentali, per esempio la familiarità, cioè se i genitori o i fratelli maggiori o i nonni hanno avuto questa malattia è un fattore di rischio di alto peso per le generazioni successive, quindi motivo di più quei soggetti si devono far vedere. Altri fattori di rischio sono la miopia, il diabete, la vasculopatia e dei fattori di rischio locali, cioè di particolari occhi, anche perché già che ci sono, ci sono vari tipi di glaucome. Cerco di elencarveli in maniera molto veloce, però abbiamo il glaucoma classico che abbiamo parlato fino adesso, ma c'è il cosiddetto glaucoma che sarebbe il glaucoma ad angolo aperto, se oggi c'è il cosiddetto glaucoma ad angolo stretto, che è una conformazione anatomica dell'occhio in cui questo angolo in cui devono uscire questi liquidi è molto stretto e quindi per questa conformazione oculare potrebbe chiudersi da un momento all'altro. Allora in quel momento il paziente sì che avrebbe il sintomo, perché la pressione da 20 mmHg, che dovrebbe essere un range di normalità, arriva a 40-50 mmHg, il paziente in quel momento ha un dolore fortissimo all'occhio, gli si appanna completamente la vista perché c'è un edema corneale ed altri problemi, per cui corre subito al pronto soccorso a farsi vedere. Allora in quel caso la visita oculistica preventiva viene istruito il paziente che è un soggetto arricchio che può avere questa chiusura d'angolo improvviso. Poi ci sono i glaucomi cosiddetti secondari, secondari a traumi, secondari ad altre patologie e secondari a dei farmaci, per esempio il cortisone. Il cortisone è uno di quei farmaci che può creare l'abuso di cortisone sia topico, cioè con delle gocce, sia generale, può creare nei soggetti particolari chiamati cortico-responder un aumento della pressione oculare. Infine ci sono i cosiddetti glaucomi a pressione normale dove i valori della pressione oculari sono perfettamente normali, magari intorno ai 18-20 e nonostante questo loro sviluppano danni glaucomatosi. Perché? Perché il suo nervo ottico ed altri fattori vascolari rendono l'occhio molto più sensibile all'impulso della pressione oculare e quindi quelli sono i più difficili da gestire. Infine i glaucomi congenzi, i glaucomi malformativi, per cui già in gestazione il fedo ha delle malformazioni a livello oculare, per cui lo scarico dei liquidi a livello del trabecolato è alterato, per cui già dalla gestazione questi scarichi sono intasati e quindi bisogna intervenire chirurgicamente anche nei primi giorni di vita. Il glaucoma è una delle maggiori cause di cecità nel mondo, ci sono circa 60 milioni di persone nel mondo che sono affette da questa malattia e molte di queste sono diventate cieche per colpa di questa malattia. Quindi noi possiamo considerarla sicuramente una malattia sociale, la quale è invalidante per il paziente sia con implicazioni dirette, perché costi delle visite, costi della terapia, sia con implicazioni indirette, quindi pensioni, riabilitazione visiva e il mancato guadagno a carico della collettività, perché è un paziente che è al di fuori dei range lavorativi e quindi è molto importante fare del ritorno sulla prevenzione. La prevenzione è basilare, prevenzione e diagnosi precoce, perché è una malattia asintomatica, infatti è soprannominata il ladro silenzioso della vista, perché nelle fasi iniziali il paziente non avverte nessuna sintomatologia e quindi nelle fasi iniziali si accorge di questa malattia solo facendo una visita oculista, che è dal medico specialista, dal medico oculista e noi diciamo sempre di sfruttare l'inizio della presbiopia, cioè il difetto visivo da vicino che dopo i 40-45 anni avviene a tutti, invece di andare dall'ottico e farsi dare l'occhialino da presbite, andare dall'oculista per fare una visita oculistica completa, in maniera che in quell'occasione si fa anche uno screening di massa, in maniera che si può fare poi una diagnosi di glaucoma o di soggetto a rischio, per poterlo monitorizzare nel tempo. Professore, adesso le chiederei di descriverci l'iter diagnostico e soprattutto le novità in fatto di cure, perché si parla di novità importanti, mi sembra di capire. La diagnosi deve essere una diagnosi precoce. Diagnosi precoce possiamo farla una diagnosi cosiddetta di primo livello e una diagnosi di secondo livello, cioè di eccellenza. Diagnosi di primo livello è una semplice visita ambulatoriale da un medico oculista, misurando la pressione oculare, facendo l'esame del fondo dell'occhio, vedere lo stato di salute del nervo ottico ed eventualmente un esame del campo visivo là dove abbiamo dei sospetti, per poter trarre una diagnosi iniziale. Se poi viene fatta la diagnosi e ci sono dei casi particolari, è meglio poi affidarsi a dei centri di eccellenza, a dei centri dove si può fare una diagnostica di secondo livello, in maniera che con altri accertamenti, vuole che siano le curve tonomeriche, la misurazione della pressione più volte durante il giorno, un esame che si chiama OCT, per studiare la morfologia anche del nervo ottico, l'apachimetria, lo spessore della cornea, questi sono altri esami complementari per aiutarci e nella diagnosi della malattia e nel follow up, nel monitoraggio della malattia del tempo. Per quanto riguarda le cure, oggi come oggi, nel 2021, fortunatamente abbiamo varie opzioni terapeutiche. L'opzione base è un'opzione farmacologica con la prescrizione di colliri ipotensivi che abbassano la pressione oculare, dove il paziente deve essere fidelizzato nel senso che deve rispettare gli orari a cui vengono detti l'illistitazione di queste gocce, perché l'importante è la compliance e l'aderenza alla terapia, cioè che il paziente faccia quello che gli dice il medico, ma comprese gli orari in cui vanno instillate queste gocce. L'unica problematica della terapia medica è, a parte che potrebbe essere inefficace, non è detto che sia sempre efficace se abbiamo di fronte un glaucoma resistente, e secondo la tollerabilità di questa terapia, perché a volte abbiamo della intolleranza a queste gocce e che possono dare degli effetti collaterali sia a livello generale, per esempio i beta bloccanti possono dare bradicardia nei soggetti cardiopatici, o possono dare dei problemi asmatici, di broncospasmo nei soggetti appunto asmatici, oppure le prostaglandine possono dare dei fenomeni di iperemia, di arrossamento degli occhi, di iperpigmentazione della cute perioculare. Allora, se abbiamo o inefficacia o intolleranza, si passa a uno step successivo. Quale step successivo potrebbe essere anche un trattamento laser, noi chiamiamo trattamento parachirurgio, perché non è una chirurgia vera e propria. Trattamento parachirurgio che ha solo dei limiti temporali, che non è detto che sia risolutivo nel tempo, ma magari per un limite di tempo. I pazienti lo affrontano abbastanza, in maniera abbastanza serena, il laser, perché gli viene spiegato che il massimo che succede è che non faccia l'effetto, o un effetto limitato, ma che non si possono creare complicanze. Poi negli ultimi anni, prima di passare all'opzione chirurgica, quella diciamo standard, che sarebbe la trabecolectomia, che è un intervento invasivo a livello oculare, che però a volte è risolutivo per sempre, è stato ideato in questi interventi di microchirurgia mini-invasiva, quindi interventi mini-invasivi, che sono uno step intermedio appunto tra la terapia medica laser e la trabecolectomia. Quindi questi interventi mini-invasivi consistono nell'inserire all'interno del bulbo oculare degli stand, dei device di minime dimensioni, che permettono la fuoriuscita dei liquidi dall'ambito del globo oculare. Quindi cercano di creare una porta di riserva per far uscire i liquidi da abbassare la pressione. E questa pressione si abbassa ai livelli che noi desideriamo, in maniera che non sia più una pressione patologica per il paziente. Sono interventi che ci danno una garanzia di efficacia abbastanza alta. Diciamo, noi sono cinque anni che facciamo questo tipo di interventi e abbiamo una statistica del 70-75% di raggiungimento dell'obiettivo pressorio. E poi la cosa importante è che si lavora in maggior sicurezza, con un profilo di sicurezza maggiore. Quindi i pazienti, spiegandogli bene la situazione, perché il colloquio col paziente è fondamentale, spiegandogli bene la situazione, lo affrontano in maniera più serena. Professore, tenendo conto di quanto è stato fatto finora per la cura del glaucoma, quali sono i vantaggi di questa chirurgia mini-invasiva? Abbiamo, nello stesso ambito, varie tecniche, perché abbiamo delle tecniche cosiddette, adesso non voglio scendere troppo nel tecnico, però delle tecniche cosiddette ab-interno e delle tecniche ab-esterno. Ab-interno, per esempio, abbiamo un device che si chiama Xen, il quale viene inserito dall'interno dell'occhio verso l'esterno. Non è invasivo, non c'è bisogno di manipolare la congiuntiva, di mettere punti congiuntivali. È un intervento che viene fatto in anestesia locale e il paziente si può fare anche in maniera ambulatoriale, quindi il paziente poi va a casa con tutte le prescrizioni dovute. Nel suo tempo ci stanno altri stent, tipo il Preser Flow, che invece viene inserito dall'esterno dell'occhio, quindi bisogna fare un piccolo occhiello sulla congiuntiva ed inserire questo stent. Hanno delle caratteristiche, differenze, ma hanno pure delle indicazioni chirurgiche differenti. Professore, da un anno sappiamo che le strutture sanitarie si sono dovute riconvertire, alcune totalmente, per i pazienti Covid. Per quanto riguarda il suo ramo, come è stato affrontato il problema? Questa pandemia ovviamente all'inizio ci ha preso la sprovvista a tutti quanti, come tutto il territorio nazionale dal punto di vista sanitario e anche a livello europeo e mondiale, perché ci ha preso la sprovvista perché era un nemico semisconosciuto. Quindi abbiamo dovuto gestire l'emergenza nelle fasi iniziali, ovviamente cercando di regolare i flussi dei pazienti che accedevano ai nostri ambulatori, riducendo sicuramente il numero di questi accessi, dando priorità alle urgenze e usando tutte le caratteristiche che servono antipandemia, quello che vuoi il distanziamento, quindi non fare l'assembramento nelle sale d'attese, mascherine, noi mascherine ai pazienti, il lavaggio delle mani continui e l'uso dei guanti. Ovviamente all'inizio anche noi abbiamo avuto difficoltà, per esempio noi come ospedalieri al reperimento anche delle mascherine stesse, quindi c'è stato un gran caos nella fase iniziale, però piano piano siamo riusciti a gestire questi flussi. Calcolate che il paziente glaucomatoso è un paziente che ha delle caratteristiche psicologiche particolari, è un paziente molto ansioso perché è cosciente della sua malattia e quindi è sempre in apprensione, quindi siamo cercati di andare all'incontro a questo tipo di paziente e quindi di poterli vedere anche nel caos della pandemia. Oggi come oggi, dopo un anno di inizio dalla pandemia, siamo riusciti ad organizzarci meglio. Grazie professore, è veramente interessante, credo che i telespettatori hanno ottenuto un'informazione straordinaria. Vuole fare qualche conclusione? Da indagine statistiche risulta che in Italia, per esempio, il 18% degli italiani in età compresa tra i 20 e gli 80 anni non ha mai, e sottolineo, mai eseguito una visita oculistica perché quando hanno problemi di vista, voi per problemi di tempo, per problemi lavorativi, per problemi economici, per qualsiasi problema, vanno dall'ottichetto vicino casa o vicino al posto di lavoro a farsi misurare la vista. Ricordiamoci che gli ottici sono predisposti a effettuare l'occhiale dietro prescrizione medica del medico oculista. Quindi l'ottico non può essere in grado di rilevare una malattia così importante e invalidante. Quindi, scusate, ritorno indietro sul discorso, approfittiamo dopo i 40 anni, chiunque, chiunque, di fare una visita dal medico oculista in generale, in maniera che lì si fa già della prevenzione. Poi, nei soggetti a rischio. Ovviamente qui è importante informare la popolazione chi sono i soggetti a rischio. Ecco l'importante della comunicazione, della stampa, dei mezzi di informazione o altro su questo tipo di malattia. Quindi quando ci sono i fattori di rischio di familiarità, fattori di rischio locali, diabete, ipertensione, vascolopatici, eccetera, quelle visite vanno fatte anche in epoca prima dei 40 anni, prima dei 40 anni per stabilire se il paziente è un paziente che sta ancora nella norma o no. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie per la chiarezza di quanto ha detto. Arrivederci, a un prossimo incontro. E grazie a voi telespettatori per averci seguito. Speriamo di fare una buona informazione, che voi appreziate questa buona informazione. Arrivederci. Speriamo di fare una buona informazione. Grazie. 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 Grazie.